Il nostro ricordo di uomini che corsano del peggio che il nostro pensiero si muovono a questa dolce Il nostro ricordo Venerdì è arrivato ad Ascoli il medagliere nazionale dell'Associazione Bersalieri che è stato consegnato al sindaco alla presenza di autorità civili e azioni militari. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 La signora sarà con noi? La signora? La signora? La signora? La conosco io! La conosco io! Da qual'anno? No! Questa ci sono a destra! Io sono a destra! E come faccio a passare una? Sono malice! Eccolo! 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 La stessa caserna! La mangiavamo insieme per noi! Hai capito? Questa è una città! Bé! E' proprio! E' un minore per noi! Però non si può andare a scrivere qua con il vostro marico! La famiglia? E' una nuova! E' un minuto!